www.malizopoli.it un piccolo focus sui opportunità di finanziamento ancora operative da quanto riguarda Simest per le imprese. Abbiamo Simest e-commerce che offre un tasso agevolato dal fondo perduto per l'e-commerce, Simest transizione digitale ed ecologica fino a un milione di euro, interessantissimo questa opportunità per le imprese che hanno un rimborso in sei anni con due anni di preammortamento a un tasso minimo dello 0,5 per cento e con un 10 per cento di contributo a fondo perduto, importantissimo fiere Simest e fiere ed eventi per le PMI che vanno all'estero, Temporary Manager, Simest e Temporary Manager che permette di avere un manager per l'internazionalizzazione, Simest certificazioni e consulenze e poi Simest per l'inserimento nei mercati esteri. Quindi tante opportunità per le imprese vanno calate nella realtà aziendale. Alla prossima!